Ragazzi oggi per la prima volta porterò Cristiano allo Juventus Stadium. Sei pronto Cri per andare allo stadio? Sì! Andiamo forza! Stiamo andando a piedi visto che da casa mia dista pochissimo lo stadio. Dovete sapere amici che con la mia squadra del cuore ho girato l'Italia ma sono stato solo una volta allo Juventus Stadium con la Coppa Italia. Sei pronto? Sì! In alto? Sì! Ragazzi più che stadio si può chiamare teatro. Sei contento papà? E balla forza? Ovviamente ci tengo a felicitare una cosa. Il mio cuore dal punto di vista calcistico è solo per l'Avellino. Sono neutrale a tutte le squadre, amo il calcio e andrò a vedere tutti gli stati dove mi troverò. E quindi che vinca il peggiore! Un po' come me! Qui vediamo Cristian che si diverte e balla allo stadio e questo è una discoteca che è una discoteca che è una discoteca o è uno stadio. Saluti sicuro per l'am ярce! Sono qui per bene perdere la scolkistica più confe worried